Ieri 7 agosto si è tenuta l'anteprima italiana di Cattivissimo Me 4 e anche prima dell'uscita tra i commenti ho trovato qualcuno che mi chiedeva se già un quinto capitolo della saga fosse possibile. Il film arriverà in sala ufficialmente il 21 agosto, ma la fatidica domanda è... Cattivissimo Me 5? Si farà? Prima di iniziare vi ricordo che ieri è uscita la recensione senza e con spoiler di Cattivissimo Me 4, quindi se volete sapere cosa ne penso del film potete andare a vedere quel video e se volete parlare un po' oppure vedere altri contenuti vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, i link sono nella descrizione tra Instagram, TikTok, Letterboxd e X, ma adesso andiamo con ordine. Cattivissimo Me è uno dei franchise animati più famosi al mondo. Illumination nel 2010 rilascia il primo film, che per quanto mi riguarda rimane ancora il migliore. Il film ha avuto l'onore di presentare al pubblico i Minions, forse tra le creature animate più riconoscibili. E il bello è che questa fama per i mostriciattoli gialli non vuole proprio sparire. Dopo anni con due film spin-off usciti ed un terzo confermato per il 2027, i Minions continuano a sbancare al cinema. L'intero franchise di Cattivissimo Me, contando quindi anche i due Minions, ha riscosso ben 5 miliardi di dollari in sala e la cosa non può che far piacere a Illumination e Universal, ovviamente. Anche se al momento le cose vanno veramente bene in casa Illumination, non è detta l'ultima parola, perché l'anno scorso hanno rilasciato due film animati, ovvero Super Mario Bros. il film, che è stato il secondo maggior incasso del 2023 con 1 miliardo e 360 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 100 milioni, ha davvero 3 di complicato i soldi spesi. 3 di complicato, credo di non averlo mai detto. Però l'anno scorso, sfortunatamente, è uscito anche Immigration, in Italia Prendi il Volo, che comunque non ha fatto flop assurdo, aveva un budget di 72 milioni di dollari e ne ha guadagnati lo stesso quasi 300 di milioni. Però c'è giusto una piccola differenza di numeri tra i due film. E se poi quest'ultimo lo mettiamo a confronto con Minions 2, uscito nel 2022, e quindi in un periodo ancora un po' incerto per il cinema a causa della pandemia, sembrano comunque due spicci quelli di Immigration. Minions 2, come Gru è diventato cattivo, ha guadagnato 960 milioni, quasi un miliardo in quel periodo. E comunque con un budget di soli 80 milioni. In rapporto ai costi di produzione, Super Mario ha comunque guadagnato di più. Ma immaginate Minions 2 in questo periodo. Fatto sta che Immigration è l'unico a non aver fatto grossi numeri. Quindi è ovvio che Illumination adesso voglia pensare solo a Cattivissimo Me e ai Minions. E naturalmente anche all'idraulico baffuto. Cattivissimo Me 4 è comunque uscito già da un mese in America. E ovviamente ha sbancato, raggiungendo quasi subito i 500 milioni di dollari con un budget di 100. Per questo è abbastanza probabile che un quinto film arrivi. Sicuro non si fermeranno al quarto. Vedesi anche la conferma di Minions 3 a settembre 2027. Anche se in realtà questo quarto film ha un po' il sentore e la sensazione da film conclusivo della saga. Seguiranno brevi spoiler dal finale di Cattivissimo Me 4, quindi se non avete visto ancora il film andate a questo minutaggio per continuare il video e sapere quando potrebbe uscire questo film, se mai arriverà. Da cosa si potrebbe dedurre che Cattivissimo Me 4 potrebbe anche concludere le storie di Gru, Lucy e figli? Beh, qui vediamo Gru alle prese con un fantasma dal suo passato per quanto bidimensionale e poco pungente. Maxine Lemal, doppiato da Will Ferrell. E questa cosa da mega fan di The Office mi ha fatto sorridere visto chi si trova dietro la voce di Gru. Comunque, Maxine Lemal a fine film viene arrestato e portato nel carcere di massima sicurezza della Evil. Dove, con una sequenza che non mi è affatto dispiaciuta, abbiamo un po' di sano fanservice, con tutti i villain della saga che assistono al concerto di Gru e Maxine. Tutti i villain, anche chi in realtà non dovrebbe trovarsi lì. Vector, se non sbaglio, era bloccato sulla luna, a meno che non siano andati a recuperarlo offscreen. Comunque, questo far tornare i vecchi villain e questa mezza riappacificazione con Maxine Lemal, nonostante non si sia mai parlato di lui in altri film, mi hanno dato un sentore di chiusura. Ma davvero, non possono. Cattivissimo Me e il franchise che al momento tiene in piedi Illumination non possono chiudere totalmente qui. Anche perché è stato appena giunto un nuovo personaggio alla famiglia, che ha già fatto breccia nei cuori dei bambini e non solo. Secondo me un quinto film potrebbe anche essere scontato. Di conseguenza cerchiamo un po' di capire quando potrebbe arrivare e cosa potremmo vedere, anche se questo è un po' difficile da prevedere dato che inventano retcon ad ogni film, quindi effettivamente tutto può accadere. Magari un altro villain dal passato di Gru o di qualche altro personaggio? I Minion sicuramente andranno incontro a una nuova avventura perché nel primo venivano semplicemente presentati un po' in secondo piano, nel secondo diventavano pazzi e viola, nel terzo venivano arrestati e in questo alcuni diventano dei supereroi, nel quinto boh, non avranno più bisogno degli occhiali da vista? No scherzo, i design base dei Minions non cambieranno mai definitivamente. Magari il legame tra Gru e Junior adesso potrebbe avere una predominanza maggiore. I produttori hanno rivelato che in questo universo, nonostante vengono aggiunti nuovi personaggi, quelli già esistenti non crescono affatto, per questo le tre bambine di Gru hanno la stessa età da 14 anni ormai. È una cosa che non mi convince tantissimo ma possiamo anche capire il motivo facilmente. E in questo caso quindi Gru Junior non dovrebbe crescere andando avanti, a meno che non rimangeranno questa regola per lui, ma sarebbe veramente una mossa sbagliata. Anche lo stesso Steve Carell, intervistato, ha detto che in un possibile quinto vorrebbe una concentrazione maggiore sul legame padre-figlio che qui è proprio agli inizi. Lui in teoria non potrebbe sapere al momento di un altro film, credo, quindi non prendete la sua dichiarazione come una conferma del quinto film. Anche se ripeto che c'è una mega probabilità che l'uscita avvenga. Ma quando? Il primo film è arrivato nel 2010, il secondo tre anni dopo, nel 2013. Tra il secondo e il terzo ci sono quattro anni di attesa, con l'uscita del terzo nel 2017, ma di mezzo nel 2015 è arrivato anche Minions e poi nel 2022 Minions 2. Quindi l'attesa maggiore tra i capitoli di Cattivissimo Me, saga principale quantomeno, è tra il terzo e il quarto, ben sette anni tra i due film. Ma c'è stata la pandemia di mezzo, i diversi scioperi, quindi è tutto comprensibile. Teniamo conto anche di Minions 3 nel 2027, fra tre anni, ma non solo, teniamo conto anche dell'ormai ufficiale Super Mario Bros 2 il film, che potrebbe arrivare, anzi dovrebbe arrivare nel 2026, o altri possibili sequel di franchise come Sing o Pets, non credo prendi il volo che secondo me è già bello che è accantonato. O magari potrebbero tentare la fortuna con un nuovo starting point e una nuova storia, nuovi personaggi, un nuovo franchise, ma sinceramente non credo al momento. Le anatre scottano ancora un po'. Quindi in tutto questo sono abbastanza sicuro che un possibile Cattivissimo Me 5 non possa arrivare in questi anni, sicuramente ben dopo il 2027. Credo però anche prima del 2030, loro con il terzo Minions testeranno il terreno cercando di capire se le altre nuove generazioni impazziscono ancora per i Minions, valutando così di continuare o no la saga. Finora però dopo 14 anni sembra andare ancora strabene visti i guadagni del quarto film. Sembra proprio che i Minions non abbiano la minima voglia di abbandonare i bambini crescendo diverse generazioni. E fruttando tantissimo Illumination ovviamente. In chiusura quindi se dovessi dare una possibile data d'uscita a un Cattivissimo Me 5 non ancora confermato, lo ripeto per l'ennesima volta, non c'è nessuna conferma ufficiale, questo è un solito video in stile si farà, c'è la playlist nelle schede se volete vedere gli altri video, ma appunto se dovessi dare un anno d'uscita a Cattivissimo Me 5 direi 2029 o direttamente 2030. Non prima di Minions 3, ma neanche troppo dopo. Oh, poi davvero fra qualche giorno arriva la conferma che Cattivissimo Me 4 era realmente l'ultimo e quindi questo video perde tutto il senso, però vedremo, basta solo aspettare. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, secondo voi Cattivissimo Me 5 arriverà e se sì, quando? Tenete conto ovviamente che deve uscire sia Minions 3 e anche altri possibili sequel o nuovi franchise di Illumination, quindi una data troppo vicina al 2024 diciamo che è letteralmente impossibile. anche perché dobbiamo pure contare il periodo di produzione ovviamente. Fatemi sapere tutto con un commento perché il video di oggi finisce qui, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social Instagram, TikTok, Letterboxd e X, c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove con il codice ilpensiero4 avrete un paio di calze gratis a scelta e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!